Certo, che combinazione perfetta! Fare un video reaction su Lambrenedamus dalla parte nordcoreana di Berlino. Dopo la vittoria di Trump cosa cambierà? Il punto di Lambrenedetto che nel frattempo si è fatto biondo proprio, penso, per omaggiare l'omino arancione. Allora, un punto della situazione dopo le elezioni americane, quando succedono questi eventi tipo elezioni americane e quant'altro, tutti questi espertoni di geopolitica dicono la loro. E fa troppo ridere. Che hanno vinto la vittoria di Donaldo, torno a fare un video sulla cionpolitica, dando una visione un po' differente rispetto a quello che comunque dice la massa, nel senso che... E vabbè, differente. Questo bisogna giudicarlo noi, che poi può darsi che dia un giudizio come la massa e l'Hambrenedamus, perché lui è solito dire che non fa parte della massa, ma poi più massa di lui non esiste. Io dico quello che penso, io dico, e di solito non mi sbaglio mai, ho sempre avuto una visione di... Oh, a rieccoli. Sti espertoni di geopolitica che fanno previsioni e poi vi dicono che le azzeccano sempre. Proprio... Questi sono proprio come l'omino arancione, lì. ...e guarda a caso, poi mi sono sempre... No? In secondo loro le azzeccano sempre. Loro dicono sempre la cosa giusta, non sbagliano mai. ...ho sempre avuto ragione sul tanto, infatti ho parlato... ...ho sempre avuto ragione. ...ho di fatti che sarebbero poi... Ma ragazzi, come dico spesso, l'Hambrenedamus, secondo me, dovrebbe continuare a fare video denuncia sulle buche, sulle infrastrutture e quant'altro. Infatti ho visto che gli ultimi due o tre video dell'Hambrenedamus ritornava a fare denuncia sulle pessime condizioni stradali di alcune parti dell'Italia e invece si mette anche a fare queste cose che, per carità, ci stai. ...un minuti ultimamente, ne parlavo già anni fa, come la situazione quella del Donbass. Allora, e la gente non sapeva neanche dov'era. Elezione americana, vabbè, si sapeva che Donaldo avrebbe vinto l'elezione americana. Ma si sapeva. Mica tanto si sapeva. Che Donaldo parla, diciamo, di più alla pancia della gente, un po' come è successo in Italia, dove chi parla alla pancia della gente comunque magari va a vincere. Salvo poi, una volta magari a governo, fare esattamente un posto, fare nulla. Allora, diciamo che io non mi sono neanche interessato molto a queste elezioni americane, tanto è vero che non, praticamente, non sapevo neanche che si svolgevano ieri. Questo è per cui... ...ho i miei dubbi. Comunque sì, se lo dice lui. ...quanto riguarda l'interesse, da dove nasce questo mio disinteresse alle elezioni del Presidente degli Stati Uniti da me? Ve lo dico io da cosa nasce. Magari ci azzecco. Dal fatto che qualsiasi cosa succeda nel mondo occidentale, per il Lambrenedamus, siccome no, sono luoghi della cricca, luoghi del neoliberismo, allora, chiaramente, sono tutti eventi non interessanti per il Lambrenedamus, forse? Adesso poi, mi immagino già i commenti di, no, ma Lambren, ma cosa stai dicendo? Ma non è così, ma lui è differente, ma è quello lì, quali là, i democratici, i repubblicani, di qua. Cioè, voi dovete capire una cosa, ragazzi, perché se non avete ancora capito questo... ...e non voglio poi fare più video sul discorso politico, geopolitico, eccetera, eccetera... ...non farà più video, non vuole più fare video sulla geopolitica... ...ci credo molto poco... ...mi voglio concentrare su altre cose, in particolare sul mio futuro, ok? Che poi ancora non si è capito mica... ...se lascerà l'Europa oppure no. Se voi pensate che negli Stati Uniti d'America il Presidente degli Stati Uniti d'America è quello che lui decide, comanda, dalle direttive, vuol dire che non avete capito nulla di quanto è complesso il mondo della geopolitica e che cosa c'è dietro. Cioè, voi pensate che negli ultimi anni... Voi? Ma dai! Ma chi è che pensa che il mondo della geopolitica sia semplice? Solo alcune persone che non stanno proprio con i piedi per terra possono pensare a certe cose. ...c'era Biden che dava le direttive, facciamo di qui, facciamo di là, facciamo di là. Io sono cose che ho sempre detto, che sosterrò sempre. Il Presidente degli Stati Uniti d'America, ma conta niente? Non conta niente? Ehi, non conta niente, è un po' esagerato. Adesso, magari non conterà, non sarà il re del mondo, ma qualcosa conta. Su questo non concordo con il Lambrenedamus. Poteva vincere anche Pinco Pallino, è il contentino del popolino che va a votare... No, 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 su questo secondo me toppa alla grande. Purtroppo o per fortuna, dipende dai Presidenti, purtroppo o per fortuna il Presidente americano ha sì l'influenza sul mondo, conta sì! E vabbè, qui la solita teoria dell'Ambrenedamus, della fantomatica cricca... Se voi non avete ancora capito che chi tira le file non si espone, chi decide non si espone... Ma no, 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 su questo non concordo affatto con il Lambrenedamus. Chi segue i giochi, chi tira le file, com'è che dice lui? Si espone e come, si espone e come, voglio dire, no, no. E sta da tutt'altra parte, anzi vi dico anche da dove sta, guardate, ve lo dico adesso dove sto facendo il video. Sta là il nord, sta esattamente in quella parte lì, nord spostato di là. E' lì che tirano i fili, perché gli Stati Uniti d'America sono una delle tante loro colonie. Quindi per cui noi non siamo una colonia americana, no. Noi siamo una colonia di quelli su là, su là. Quindi l'elezione di Donald non è che cambierà tantissimo. Ma su là, ma se invece stai in una nazione che sta al nord del su di là, dunque sta giù di là o mi sbaglio? No, diciamo sposterà molto. A livello geopolitico loro decidono che cosa fare. Sicuramente, magari dal nostro punto di vista, per quanto riguarda gli europei, sicuramente è una cosa, magari ci farà qualche tazio, qualcosa, sicuramente non saranno qui a dare una mano a noi. Dal punto di vista, diciamo, geopolitico, penso che si concentreranno più, diciamo, nei confronti... ci provo, è geopolitico. ...dell'area orientale, cino-orientale. E diciamo che questo faro che c'è si sposterà più verso di là. E alcune situazioni verranno un po' più dimenticate. Ma più verso di là... E' interessante, l'Ambrenedamus quando parla di posizioni geografiche... Non c'è nord, sud, ovest, est. No, c'è di là, di qua, di su, di giù. Il mondo oggi è interconnesso. No. Non pensiate che uno sia contro l'altro. Tutti sono lì seduti allo stesso tavolo. E... Io credo... Vabbè, è sempre stato così il mondo. Soltanto che una volta non c'era la tecnologia adatta, magari, per connettere veramente tutto il mondo. Oggi sì. Credo che, purtroppo, la situazione non è bella. Perché non è tanto il problema dell'avanzamento... Cioè, del fatto che in alcune nazioni, alcuni sistemi... Basta vedere quello che mi dice Zaccaria del Messico. Oh, andiamo tutti in Messico, ragazzi. Mi è venuta voglia di fare un viaggetto in Messico. Dopo aver sentito il Ambrenedamos parlare così spesso del Messico. Mi è venuta voglia di andare in Messico. Basta, questo video è un po' noiosetto, eh. Non lo so... Penso di terminarla qui, perché a noi osetto, tanto, insomma, lo sappiamo, il punto dell'Ambrenedamus su queste faccende è più o meno sempre lo stesso, come capita spesso. Per questo video è tutto, un caro saluto dal Buzzo, dalla parte nordcoreana di Berlino. Ciao ragazzi!